Presentato presso il comune di Pescara l'evento Un Sogno nel Cuore, sabato 29 ottobre, duplice momento allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara, alle 15 spettacolo musicale, mentre alle 16 fischio d'inizio della partita di beneficenza tra la Nazionale Azzurri degli Artisti Italiani e la New Dreams, una vera e propria squadra di calcio composta da creator, cantanti e personaggi televisivi, tra cui l'ex mister del Pescara Calcio Massimo Oddo, le parole del presidente della Nazionale Azzurri Alessandro Arena e del cantante Francesco Paone in arte critical, ottavo al programma televisivo Amici. Il 29 ottobre ci sarà questo appuntamento importantissimo, solidale, quindi di solidarietà, dove la Nazionale Azzurri incontrerà, sfiderà la New Dreams, saranno due squadre in competizione dove ci saranno tantissimi cantanti, attori, calciatori, influencer, sarà una giornata di festa, ma la cosa più importante è che lo scopo primario e finale di questo evento sarà praticamente raccogliere più fondi possibili e donarli a una struttura che si occupa di autismo per i bimbi e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Questa struttura avrà un inizio importante in quel di Fiumicino, nell'arco dei prossimi 6-8 mesi, ci sarà questa, finalmente questa struttura, sarà una struttura di 6.000 metri quadri dove all'interno questi ragazzi, attraverso lo sport e la psicomotricità, potranno, come si suol dire, migliorare la propria, attraverso la psicomotricità, tutto quello che riguarderà, insomma, le loro facoltà. Detto questo, sono contentissimo che un artista come Critical oggi possa essere qui con noi, siamo ospiti del Grand Hotel di Montesilvano, dove chiaramente saremmo con tutti i nostri artisti e che dirvi, vi aspettiamo numerosi allo stadio per il 29 a partire dalle ore 15, la biglietteria sarà gestita da Viva Ticket sia online che nei punti vendita dove potrete vedere poi in sovraimpressione nello schermo del servizio, insomma. Assolutamente sì, io sono veramente molto grato di essere presente a questa partita perché, oltretutto, Pescara è la mia città natale, quindi sono veramente molto contento che possa prendere queste iniziative. C'è tanto, tanto, tanto bisogno e noi siamo presenti a supportare ed è un invito a tutti i pescaresi, tutte le persone di zona limitrofea anche di venire a supportare la causa. Facciamo una battuta, magari hai come sogno di diventare un cantante, però magari da piccolo, chissà, volevi fare il calciatore, alla fine ti ritrovi da cantante a giocare allo stadio Adriatico. Sì, diciamo che queste due strade si sono incrociate, quindi è stata una cosa, è una cosa molto bella, ma soprattutto scendiamo tutti in campo per mandare un messaggio molto, molto, molto forte.